Ciao a tutte, oggi vi mostro come realizzare una nail art davvero molto natalizia è una candy cane water marble che si ispira appunto a quei deliziosi bastoncini di zucchero tipici della tradizione americana ho iniziato applicando come al solito una base bianca per far risaltare meglio i colori che poi andrò a utilizzare per la water marble vera e propria e poi ho messo dello scotch intorno alle cuticole, intorno alla pelle per proteggerle e non dover perdere troppo tempo col clean up dopo aver finito la water marble visto che è una nail art ispirata appunto ai candy canes andrò ad utilizzare come colori un bianco e un rosso il bianco è il Laila numero 85 della linea normale mentre il rosso è il China Glaze Thunderbird che è il mio rosso preferito in assoluto, io lo trovo veramente splendido a differenza di quello che faccio normalmente quando realizzo una water marble faccio cadere 3 o 4 gocce dello stesso colore prima di alternare l'altro questo perché voglio che i due colori rimangano belli intensi, belli decisi e soprattutto separati tra di loro in modo di avere un risultato piuttosto netto a questo punto prendo il mio stuzzicadenti e vado a realizzare il disegno vero e proprio dal centro vado verso un'estremità del bicchiere e nuovamente dal centro fino all'altra estremità inizio quindi a creare il mio design candy cane tracciando queste specie di strisce andando da un lato all'altro del bicchiere tengo sempre a portata di mano un fazzoletto perché con questo design c'è molto accumulo di smalto sullo stuzzicadenti e se non andasse a pulirlo in continuazione non riuscirei ad essere precisa nel momento in cui creo il mio disegno ora che ho finito posso ovviamente passare ad immergere le unghie in questo caso riesco a immergere ben 3 unghie alla volta immergendo 3 unghie alla volta ovviamente non vado solo a risparmiare un sacco di tempo ma anche un sacco di smalto passo quindi a liberare la superficie dell'acqua da tutto lo smalto in eccesso per farlo vi ricordo che è sempre meglio soffiare sulla superficie dell'acqua in modo che lo smalto si rapprenda e venga via più facilmente io non lo faccio per evitare di creare fastidiosi rumori nel video comunque senza fretta pulite tutta la superficie dell'acqua in modo da poter tirar fuori le unghie senza che questi residui vi si appiccichino addosso e rovinino il disegno che avete appena creato ora posso allineare in verticale le mie unghie e con molta calma per evitare che si formino delle bolle le vado a tirare fuori dall'acqua ed ecco qui il nostro design candy cane è finito ora devo solamente liberarmi dallo scotch protettivo e ovviamente andare a fare il clean up per togliere ogni residuo di smalto dalla pelle e dalle cuticole vado ad utilizzare una penna correttore di Lady Lia io non sono una fan di questo tipo di prodotto lo trovo poco preciso e preferisco utilizzare un pennello da correttore della linea base di ELF imbevuto nel solvente o nell'acetone trovo che sia molto più pratico, molto più efficace e molto più preciso comunque questo è il risultato finale spero che vi piaccia vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo tutorial ciao ciao